Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, chiesto come testimone al nuovo processo che si è aperto oggi a Caltanissetta per la strage di Via D'Amelio, dall'Avvocato Fabio Replici, legale di Salvatore Borsellino, il fratello del giudice ucciso dalla mafia nel 1992. Si è aperto dunque così nell'aula della Corte d'Assise di Caltanissetta il nuovo processo per la strage di Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, imputati i boss Vittorio Tutino, Salvo Madonia e Calogero Pulci, Francesco Andriotte e Vincenzo Scarantino, i tre falsi pentiti autori del depistaggio costato l'ergastolo a sette innocenti. La Procura, rappresentata dal capo dei PM Sergio Lari e dall'Aggiunto Domenico Gozzo e dai sostituti Stefano Luciani e Gabriele Paci, ha illustrato la sua lista testi che prevede l'esame di 300 tra pentiti, politici, esponenti delle forze dell'ordine, magistrati e familiari delle vittime. In intervento un po' alla volta con la presentazione delle istanze istruttorie e i legali delle parti civili, si sono costituiti i familiari delle vittime, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, la Regione Siciliana, il Comune di Palermo, il Centro Pielatorre, Gaetano Murane e Gaetano Scotto, due dei sette condannati ingiustamente per la strage per i quali è stata chiesta la revisione del processo. Per quanto riguarda la citazione a testimonia del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, spetta adesso alla Corte d'Assise decidere se ammetterlo. Il capo dello Stato, che all'epoca dell'Eccidio era Presidente della Camera e proprio per il suo ruolo, secondo il legale, era un osservatore privilegiato di quanto avveniva nei palazzi del potere. Repice ha motivato la necessità di sentire Napolitano anche sulla base di quanto il Presidente ha scritto in una lettera indirizzata alla figlia del suo predecessore Oscar Luigi Scalfaro. Il capo dello Stato ha spiegato all'avvocato, ha detto di aver accompagnato Scalfaro nei momenti decisivi del tragico bienio delle stragi di mafia.